Noi adesso diventiamo tutte un po' pantere, ecco, del materasso soprattutto. Ma guarda te, Silvia, sì. Io non ho capito neanche che cosa c'è qua sopra, però vabbè, non lo sapete. Non fare l'antica. No, non fate l'antica, ho capito solo una cosa. Poi per il resto di questi oggetti... Ci vuole tempo. Ecco. La voce che avete sentito è di Gloria Morasca, che è una delle responsabili, delle venditrici, delle consulenti della valigia rossa. Buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Che sarà mai questa valigia rossa? Che può essere? Una valigia rossa, va. Che cosa sarà? Che cosa sarà? È un contenitore di tanti oggetti particolari e carini che ci aiutano nella sessualità, nel benessere sessuale. Nel benessere ci piace, quindi vanno bene per tutti, no? Vanno bene per tutti, il target infatti è coppie, single e coppie gay. Ok, quindi tutti. Di tutto e di più, sfatare il mito che per le coppie non va bene, e poi magari vi spiego il perché. Ecco. La cosa che ci ha incuriosito è che in realtà la valigia rossa è il nome di questa società, chiamiamola così, che vende come se fosse, non so, a Lavon, come si chiamavano. Cioè, si ritrovano le amiche, no? Dimitri, chi è? Ah, vieni, devi andare a prendere un pasticcino, c'è del tè preparato, dai, facciamo due chiacchie. Ecco. Tasta ta. Cosa c'è nella valigia rossa? Ecco, però non si vendono né cosmetici, o sì, però diciamo che sono tutti giochi erotici. Sex toys. È tutto finalizzato al sesso, in verità, nonché anche alla salute sessuale. È importante anche quella. Quindi in realtà effettivamente si svolge così. Cioè, io trovo un gruppo di amiche, chiamiamo Gloria o un'altra delle sue collaboratrici che si trovano in giro per tutta Italia e si organizzano questi incontri. Esattamente. Che sarebbero anche un po' divertenti, insomma. Sono molto divertenti. Ah, ecco, ecco. Alla fine della serata, della riunione, le signore hanno le mandibole doloranti dalle risate. Ah, ecco, ok. Perché c'è la parte un po' più seria e poi la parte ludica, cioè, si muore da ridere. Ecco, no, perché all'inizio magari uno dice, sì, vabbè, vediamo questo e questo altro, poi però come, se succede quello che è successo a me due secondi fa, ho detto, ma cos'è questo? Un interruttore? Beh, un interruttore curioso. Curioso, è partito tutto, allora le risate sono ovviamente scattate. Ecco, allora, non so, che tipo di persone si rivolgono a quelli che vogliono prendere gli oggetti della valigia rossa? Un po' di tutto, anche persone che non ti aspetteresti mai. Magari ti aspetti una ragazza giovane, invece diviene una signora sessantenne. Ah, che brava. Pensa che ho avuto una cliente che mi ha detto che il suo ginecologo gli ha consigliato un vibratore affinché rendesse di nuovo elastica la sua vagina. Non ci posso credere. Ah, io invece ci credo. No, però, bravo il ginecologo lo dita. Dopodiché la disabitudine, il muscolo ovviamente si rigidisce, e invece con un giocattolo, un po' come quegli affari per le scarpe, per dargli la forma, non è carino, come esempio. Però rende l'idea, Gloria, è molto chiaro. E noi vogliamo rendere l'idea perché siamo in radio, quindi la gente non vede queste cose. Che ha apparecchiato, Gloria, su questo tavolo? Ci sono... C'è qualche una lattina di Coca-Cola? Ah, no. Non è una... Non è Coca-Cola? No. Allora, ecco, questo sembra un rossetto all'apparenza. È un rossetto. È un rossetto. Allora, in una borsa di una signora non può mancare un rossetto, è assolutamente normale. Però, quando lo andiamo ad aprire, metti un dito sopra. Sì. Posso, scusate, lo sto... Ah! Ecco, vibra. Vibra. È un vibratorino. Posso provare anche io? Scusate. Oh, mamma mia. Da poggiare delicatamente sul clitoride. Sì. Così, per passare un minutino di serenità. Andiamo avanti. Ho bisogno di rilassarmi. Di solito uno va, accende la televisione, si va a vedere un bel programma, quelli che non ti fa pensare, tipo beautiful, e invece c'è un rossetto che ti aiuta. Ma pensa quando sei in fila alla posta, pensa che noia. È lì! Vabbè, no. Eh, vabbè. Riguardo a questo, un altro aneddoto. Allora, io qui ho una bottiglietta spray. Sì, piccolina. Piccolina, che contiene una crema che viene spruzzata, appunto, sul clitoride. Cosa fa? È un vaso costrittore al mentolo. Quindi il sangue affluisce al clitoride e ovviamente sa una sensazione di eccitamento e di calore. L'aneddoto è che una nostra, un'altra cliente non la stessa, mi auguro. Sì, però. No, veramente. Quando la chiama il capo ufficio, lei va un momento al bagno, si spruzza e dice che tutti i problemi con il capo ufficio vengono assolutamente assievoliti. Perché si sente bene fisicamente. Vedi, non solo nella coppia e nella casa. Ma poi ognuno effettivamente può fare quello che vuole di questi oggetti. Certo, certo. Ce n'è un altro poi. Questa è la lattina. Ecco, questo è un profumo. Sì, un'ampolla di un profumo. No, non avete studiato. Dammi il polso. Oh mamma. Adesso, dammelo anche tu. No, è che non ci sono uomini nei paraggi. Massaggiatevi il polso e soffiate sul vostro polso. Che cosa sentite? Sembra olio, ecco. È un olio. Ah, è un olio. Afrodisiaco. Oh mamma mia. Che cosa avete sentito? Brucia un po'. No. Vero? Brucia molto. Brucia, brucia, brucia. A me non mi brucia. A me sì. Ci sono, signora, le colline. Non brucia, ma insomma. Sarò più sensibile. Ne ho messo poco. Ne ho messo poco. Che vuol dire? Devo preoccupare. Allora, questo andrà sulle parti intime. Ah. Immaginate con lo sfregamento, con la penetrazione. Ci sarà un fuoco, vero? È vero, però guarda, sto sfregando. E effettivamente sento fuoco. Guarda, ne metto un altro po' perché vedo che... Niente. Non funziona. Scusate, con Betty non funziona. Vai, vai, adesso. Eh, ma... Soffia. Sì. Soffia. Perché non soffia. Fa anche troppo adesso caldo, devo dire. Ma andiamo a una canzone. Guarda, questa è una bottiglietta d'acqua. No, quella è vera. Questa è una bottiglietta d'acqua. Una bottiglietta d'acqua è bene sì. Va bene, allora, Gloria Morasca de La Valigia Rossa rimane con noi perché qui ci sono un sacco di cose da chiedere. Brucia. Brucia, brucia, brucia parecchio. Radio Capital. Radio Capital. Stamani rosse, l'Easician Capital Red, La Valigia Rossa, questo è l'ospite che abbiamo questa mattina nei nostri studi. In realtà è Gloria che ci ha cominciato a elencare tutta una serie di oggetti che lei vende a gruppi di donne, per lo più. Perché, no, anzi no, per lo più, solo donne. Perché questa valigia rossa si rivolge solo a un pubblico femminile. Ce l'hanno chiesto anche degli ascoltatori. Ci hanno chiesto un gioco che già si lamentava. Allora, in verità nasce così. Che si fanno le classiche riunioni a casa di signore. Sì. Invece, piano piano, stiamo proponendo di farlo anche coppie o comunque gruppi misti. Ah. Perché i signori sono giustamente incuriositi da tutto ciò. E quindi stiamo andando avanti con le coppie e ovviamente coppie gay o gay da soli. Ah sì, come dicevamo prima. Tu da quanto tempo lo fai? Un anno e mezzo. E hai cominciato perché? Dunque, io devo fare una piccola premessa. Già al liceo andavo in giro con un libro che si chiamava Noi e il nostro corpo. e assillavo i miei compagni di scuola sull'informazione, sulla sessualità, eccetera, eccetera. Quindi un giorno ho in tv, oggi invece, dopo tanti anni, ahimè, e alle Iene ho visto un servizio che appunto parlava di una riunione, eccetera, eccetera. E mi sono catapultata in internet e ho trovato appunto la valigia rossa. Ho contattato tre giorni, un corso intensivissimo, dove appunto ci hanno formato per quanto riguarda anche la salute, cosa della quale poi si parla poco, e ovviamente il modo di vendere, come relazionarsi, eccetera, eccetera. Ecco fatto. E tutti i due amici poi ovviamente dopo questi tre giorni in grado, le t'hanno chiamato. La fila. Ma qualche campioncino, un anno che ci regale. Dai, già uno che ci sta. Senti, il prezzo medio di questi oggetti, si può sapere su quanto si aggira? Sì, certamente. Guarda, si parte dai 10-15 euro, magari per un cosmetico o un piccolo vibratore, e si arriva anche a 100-150. Però, beh, voglio dire, per la propria vagina si può anche spendere qualche euro. Mi sembra giustissimo. Mi è piaciuto come motto, non me l'aspettavo, non fa una piega. Stavo leggendo un messaggio subito. E quelli costosi li rottamano. C'è una società, della quale non faccio il nome, che li rottama. Nel senso, tu dopo un anno o due glielo ridai e loro, come le automobili, ti ridanno indietro uno nuovo, ovviamente paghi la differenza. Non ci posso credere. Di tutto e di più. No, veramente, è un mondo sconosciuto. Vedi quante cose stiamo imparando stamattina. C'è uno che ci ha scritto che il prossimo anno va in pensione e quindi poi vuole avere informazioni perché vorrebbe provare anche lui, insomma, a fare questo lavoro. Perché, infine, lo è. Io voglio sapere però da Gloria quanto si guadagna, tu, più o meno. Si può chiedere? Sì, consideralo un secondo lavoro. Un part-time. Ah, ok. Non ci si arricchisce. Si arrotonda. Va bene. E ci si diverte, mi sembra anche di capire. A te si fa compassione perché quando vedi queste riunioni di signori che ti chiedono, anche perché poi ti chiedono informazioni che non hanno a chi chiedere, perché non sono informazioni da ginecologo, sono informazioni più da sessuologo, che tra l'altro noi abbiamo una sessuologa alla quale rivolgerci, ma sono informazioni che non sai se chiedere all'amica intima, non si sa. È vero, è questo il problema. Invece lì vengono fuori, infatti, i dubbi. Poi c'è un'altra cosa da dire, che quando uno magari pensa anche a questi oggetti, dovrebbe andare in un negozio, andare a comprare, ci sono i sex shop, però magari si vergogna. Si vergogna profondamente, entro magari in una piccola città, ti vengono, ah sei andato. Così online, oppure con una persona che ti viene a casa e te li fa vedere direttamente in assoluta discrezione, magari anche vogli comprare qualche cosetta per rendere un po' più piccanti e un po' più vivaci le tue serate. Perché alla fine serve anche divertimento, oltre che conoscenza dell'altro. Deve essere consapevolezza, conoscenza e divertimento. Anche perché non è facile capirli. No, per niente. Io lo prendo, tiro fuori, faccio bene? Questo è per fare la ginnastica, no? Ecco, sembra un piccolo manubrio. Un piccolo manubrio. Bravissime. Piccolo, piccolo, piccolo. Senza saperlo, avete detto, la cosa giusta, quello serve per fare una ginnastica, si chiamano esercizi di Kegel. Ah, ok. Sono due palline con dei pesetti dentro, che si inseriscono in vagina. Perché? È pulito, è nuovo. Insomma, l'ho subito, ho perso sulla scala di iscrivone. L'ho buttato. Ah, no. No, è nuovo, sto scherzando. Allora, immaginate dopo un parto, le pareti della vagina, pavimento pelvico si chiama in verità, e ovviamente è dilatato. Giusto. Oppure a una certa età ci sono i prolassi, l'incontinenza. E queste palline fanno sì che uno faccia esercizi per trattenerle e fanno benissimo. È vero. E questa è un po' la parte sessuale di salute, scusate, da quale parlavo prima. Mi piace perché c'è un tocco di... Sì, c'è un tocco di colore, no? Perché è tutto nero con del rosa. Ecco, questo non è proprio... Nei punti giusti. Ecco. Riprendiamoci un attimo. Riprendiamoci un attimo. Radio Capital. Radio Capital. Ladies and Capital. Hai notato quante persone ci sono oggi qui? Ecco, guarda. Quando parliamo di cose serie, c'è mai nessuno che viene dalla radio? Improvvisamente dall'altra parte, qua dentro, dieci persone ci stanno guardando. Uomini che fanno delle domande a Gloria. Uomini che fanno delle domande, che bello però. Sì, infatti, finalmente. Proprio sulla questione uomini e sex toys, ne vorrei parlare però siccome è un argomento un po' da approfondire, forse un po' più lungo direi, adesso andiamo in pubblicità e poi ne parliamo dopo. Va bene, Gloria della Valigia Rossa che stamattina è ospite delle Ladies. Guarda. C'è un profumatore per auto. No, è una natrina. E cos'è? È un paperotolo da bagno, no? Da vasca da bagno. Ah, sì, per profumare, no? Non esattamente. Non esattamente. Va bene, ve lo diciamo dopo. Radio Capital. Radio Capital. Noi siamo qua, che chi la manda via? Non vogliamo mandar via. Ma è stato matti qui, ci stiamo divertendo come matti, stiamo scoprendo delle cose. Io prima, per esempio, su questo tavolo imbandito letteralmente di oggetti erotici e quant'altro, ho trovato un cofanetto dove c'erano... Una custodia. Sì, io ho detto, ti sa che c'è, Dave, che cosa c'è? Erano degli occhiali da vista, di Gloria, la nostra ospite. Ok, c'è scritto ottico sopra. Scusami, però, avendoli portati lei, per me erano un oggetto erotico. Ecco, se fossero occhiali che ti facevano vedere nude le persone. Ah, sì, di dura. Va bene, ok. Eravamo rimasti all'anatrella che si mette... Ah, carina, questa paperella che dà un pochino di profumo, no? Sì, sì. La paperella non è altro che un vibratore esterno, che invece di inserirsi in vagina, si tiene all'esterno, cioè sul clitoride, sulla vulva, e vibra. E quindi durante il bagno, così. E uno si rilassa in due modi. Si rilassa di nuovo. Questa invece è la spugna di cui parlavamo? Quella è un fragolone, una spugna gira il manico. Enorme, peraltro. Giro il manico, vado? Gira il manico, Silvia. Gira, gira, così. Ah, così. Eccolo. Oh, mamma mia, che si spera. Questo è il rumore della vibrazione. Non è altro che una spugna che vibra. Ti fa male una spalla, ti vuoi fare un massaggio, un collo cervicale. E non solo. E non solo. Ok, mi piace. Il non solo, mi piace. Il non solo di Gloria. E poi c'era anche un altro... C'è lo shampoo. Sì, sembra uno shampoo. Siamo anche gli amici. Siamo anche gli amici. Sti ragazzi, non hanno studiato. No, è che si studia qua. Allora, quello è un lubrificante. Qui vorrei spendere due parole. Brava. Dovete sapere che spesso e volentieri, c'è proprio il grafico, il maschietto si accida prima di noi donne. E delle volte, quando lui è pronto, noi non lo siamo affatto. Quindi non siamo lubrificate. E il rapporto diventa doloroso, anziché piacevole come dovrebbe essere. Allora dico io, basta una goccia di lubrificante. I lubrificanti possono essere a base d'acqua, a base di silicone, ma questo è un discorso lungo. Voglio provare, scusate. Adesso intanto vi do una goccia, prego. E questo assolutamente va usato con i sex toys. Perché senza questo... Allora, questo è commestibile, perché di questo ancora non vi ho parlato. I nostri prodotti sono tutti commestibili. E questo sa di melone e mango. Buono, molto buono. Sì, sì. È oleoso anche un po'. Deve esserlo, certo. Quando usciremo da questo studio saremo profumatissime. Sì, anche forse qualcos'altro. Ma perché è sto profumo in questa radio? Ci sono degli uomini che sono anche venuti nel nostro studio, perché come sapete stamani pullulano, facendo anche delle domande forse giuste. E cioè, un uomo, come si sente nei confronti di una donna che usa questi oggetti? Allora, come accennavo prima, bisogna sfatare questo mito. Nel senso che di solito i maschietti delle coppie dicono, ma perché un vibratore se ci sono io? E questo è un enorme errore, perché invece il vibratore serve proprio come strumento per un di più. Uno può avere una splendida cena e poi mangiare la torta, perché no? Ed è uno strumento che aiuta in una coppia dove magari il rapporto avanti da anni, il rapporto di coppia è sempre lo stesso, diventa un po' noioso. Invece il giocattolo ti dà anche la possibilità poi di svelare segreti che non avresti poi modo di svelare in due. Perché col giocattolo usiamolo così, usiamolo così, questo mi piace, questo non mi piace ed è una gran soluzione. Quindi, maschietti, sappiatelo, è un aiuto per voi, non siate gelosi del vibratore. Cioè, veramente. È un vostro amico. Ecco. Vibratore il tuo amico. Io non lo so delle volte, non faccio finta di niente. Meglio, meglio, meglio. Senti, no, no, ho altre domande. Io chiudo, perché sono un po' precisina. No, anche perché c'è l'oggetto che fa paura, visto così, appoggiato al tavolo. Ma se non riusciamo a trovare le pile, però, quando riusciamo ad attivarlo, le stiamo cercando e ve lo faremo sentire. Portateci le pile! Silvia, vedrai che dopo ti rilassi. Le pile! Radio Capital Radio Capital Ladies and Capital Ci sarebbe da fare i nomi e i cognomi di tutti i nostri colleghi che sono dall'altra parte. Non vabbè, ma è solo per curiosità. Certo, certo. Guarda, 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 gente scesa da tutti i giorni. Ma quanta gente c'è qua dentro? Ma chi siete? Ma chi è? Devo dire, tutti uomini. Tutti uomini. Donne. Io ti ripeto, l'apprezzo. Apprezzo che l'uomo comunque, magari anche per un compleanno, per Natale. Certo, certo. Qualcosa in più. Ti regalo anche questo. Questo oggetto, ecco, un soggetto particolare. Noi stiamo sempre tentando di... Avevo trovato le pile. Sì. Avevo trovato le pile. Questa arma sembra qua, si fa un po' paura, ma ne parliamo troppo qua. Non è la spada di Star Wars? Sembra anche quella. Sembra. Rompighiaccio si chiama. È detto tutto. Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. Radio Capital. Capital. Ladies and Capital, oggi versione valigia rossa, versione Gloria Moraska, che è una delle venditrici di questi sex toys, che organizzano riunioni nelle case, fra amiche, fra un tè, un pasticcino e una caipirigna, volendo anche, volentieri, si presentano questi giocattoli. Ormai ho preso una deriva. Ho preso proprio un brutto vizio. Pericolosissima. Senti, la cosa che ci domandavamo è anche una questione di riservatezza, perché le riunioni si sono fra tante persone, magari alcune non si conoscono neanche le une con le altre, pare brutto. Oh, io voglio questo. Io voglio questo, questo mi serve, questo non mi serve. Però invece voi garantite proprio appunto assoluta riservatezza. Sì, noi a fine riunione, io me ne vado in cucina, in un'altra stanza dell'appartamento, e una per una i clienti vengono da sole, cioè se lo vogliono. Certo. Se non hanno problemi, d'accordo, vorrei questo, vorrei quello. Vengono di là, al limite mi fanno anche domande, che magari non ha una voglia di fare davanti a tutte, e quindi voglio dire, nessuno deve necessariamente sapere che cosa hai comprato, cosa non hai comprato. Ok, quindi già questo mi sembra importante. Poi si sono proposte delle nostre ascoltatrici come venditrici, quei requisiti deve avere uno? Una cultura generale, non deve essere timida, una buona comunicativa. Solo le donne le possono fare? Guarda, in Spagna c'è un uomo, però non so adesso in Italia come verrebbe accettato. Anche perché tu ci dicevi che a seconda anche dei posti dove uno va c'è una certa risposta, quindi magari al nord non ci sono problemi, quello che abbiamo capito. A Roma forse non si sa bene il motivo, però non c'è. Ci sono più stimoli, è una città con tante proposte. Io torno dalla Sicilia fresca fresca, dove invece c'è stata un'ottima risposta. Quindi stiamo aprendo al sud, in un certo senso. Bene, quindi questo è importante. Però è importante anche capire, per prime noi donne, la nostra anatomia, lo diciamo spesso anche con Adele Fabrizi, la nostra psicosessuologa, l'argomento è importante. Cioè se una donna non si conosce, poi è difficile anche che possa raggiungere l'orgasmo, il piacere, si possa divertire col sesso. Infatti questo è anche il nostro compito. Come dicevo prima, non vendiamo solamente, ma diamo informazioni. Tantissimi nostri clienti ci domandano questo punto G. Esiste, non esiste, dov'è? D'onde è Stas? E come si può trovare, in un certo modo. Molti non sanno, per esempio, che gli uomini hanno la prostata, che è una zona altamente erogena. Insomma, ci sono tante notizie che dovreste sapere, che potrete sapere in una nostra riunione. È vero, perché la cosa che dovete fare è contattare comunque una delle venditrici, delle rappresentanti della Valigia Rossa, vi diamo anche il sito che è lavaligiarossa.it Oppure su .com, oppure su Facebook, no, .it. .it, così leggo dal biglietto da visita. O su Facebook, la Valigia Rossa. Perfetto, così. E poi trovate anche Gloria, che però per il momento è sulla zona di Roma e Palermo. però, così almeno conoscete anche voi. La tratta Roma-Palermo. Sì, però adesso è la cosa che... Sì, andiamo a vedere. Ancute anche un po' timore. Abbiamo pochi secondi. Quindi questo è il rompighiaccio. Allora, questo si chiama rompighiaccio. E già potete immaginare, no? È un vibratore che vibra di per sé, ruota, ha delle perline che girano proprio all'entrata della vagina, quindi una zona altamente sensibile, e poi ha il coniglietto che vibra esternamente sul clitoride. Sì. Una bomba. Ma non era il delfino. Ah, è un coniglietto. Scusate, faccio sentire il... Sembra che stiamo tagliando il cespuglio vicino casa, no? Stanno facendo lavori in studio. Va bene, va bene. Allora, ringraziamo Gloria Morasca, che è stata ospite stamattina. Liberiamo la scrivania. Grazie a tutti. Grazie a tutti.